L'ombra del racket torna a spaventare il litorale agrigentino dopo l'ultimo inquietante episodio avvenuto all'alba di oggi con l'incendio che ha danneggiato lo stabilimento balneare Baraonta tra la seconda e terza spiaggia sul viale delle dune a San Leone. Le fiamme hanno ridotto in fumo il bar, il magazzino e una parte dell'attrezzatura da spiaggia. I vigi del fuoco del comando provinciale di Agrigento, subito intervenuti sul posto, hanno dovuto lavorare oltre due ore prima di avere ragione delle fiamme, evitando al rogo di estendersi al resto della struttura. Sulle cause sono in corso indagini dei poliziotti della sezione volanti che lavorano su due ipotesi, natura dolosa o fatta accidentale. Sia all'interno così come all'esterno dell'attività lavorativa non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o altri elementi. Il titolare ascoltato dagli investigatori avrebbe escluso di aver ricevuto richieste estorsive o avere nemici. Da una prima stima i danni ammontano a circa 25.000 euro. Non si tratta purtroppo di un caso isolato, il Baraonta infatti si trova a pochi metri da un altro stabilimento balneare in Nord Africa, distrutto da un incendio di origine incerta lo scorso 18 maggio. Evidentemente dietro a questi episodi si nasconde un vero e proprio racket. Alcune volte è stato accertato che si tratta anche di questioni di concorrenza tra attività commerciali della zona.